Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo vuole essere un video leggero, però prima di iniziare mi sembra doveroso, visto quello che è successo in questa settimana, fare le condobianze a due delle famiglie, insomma dei personaggi che sono deceduti in questa settimana, nell'arco di questi sette giorni. In realtà sono due personaggi ben diversi. Uno, il più noto, è Silvio Berlusconi, di cui se ne è parlato praticamente parecchio in tv, ovviamente, e di cui abbiamo visto anche tante testimonianze di tante persone che lo hanno conosciuto, eccetera, eccetera, che se ne dica comunque fu un grande imprenditore e quindi un personaggio che in Italia si conosce ma in realtà è stato conosciuto in tutto il mondo. Con pregio e difetti. E il secondo, che sicuramente conosceranno meno persone, è lo youtuber Iovi è Scancro, che aveva appunto questo canale YouTube dove raccontava la sua storia e ci aggiornava costantemente, insomma, sullo sviluppo della sua malattia, di questa sua brutta malattia. E alla fine, insomma, non ce l'ha fatta. E quindi è deceduto. Detto ciò, insomma, mi sembrava giusto fare questa cosa, sia per uno che per l'altro, perché comunque, ok, Silvio è stato un grande imprenditore e tutto, però per me Iovi è Scancro è stato un canale YouTube molto particolare che io ho seguito con molto interesse, perché aveva una caratteristica. Era sempre speranzoso, cioè era una persona forte che diceva, vabbè, sì, dai, ce la facciamo, facciamo questa cura, facciamo quest'altra. Quindi sempre in maniera positiva e propositiva, insomma, no? E quindi è una cosa che veramente mi sembrava giusto, ma proprio giusto fare. Ho già scritto un post al riguardo, comunque, sul canale YouTube. Detto ciò, passiamo ad altro, insomma, iniziamo. Avevo trattato qualcosa di simile qualche anno fa, ma adesso la voglio ritrattare. E come si vince dal titolo di questo video, che non è clickbait, attenzione, sì, se tu vuoi, mi fa anche ridere un po' la cosa, se tu vuoi, potresti pagare per acquistare un titolo nobiliare e quindi diventare, ad esempio, come nel mio caso, anche se non mi si addice proprio dalla mia faccia, veramente, va, proprio far ridere, far ridere anche a me che lo dico. Quindi pensa agli altri, ma cerchiamo di rimanere seri. Un barone. Come funziona? Ok. Allora, stiamo parlando di Sealand. Ok, di Sealand che è questa piattaforma, praticamente, nel mare, in Inghilterra, praticamente, che, non voglio spoilerarvi troppo, voglio dirvi una cosa molto generale, perché poi magari ve l'andate a cercare voi, ok? Che fu, praticamente, inizialmente abbandonata, cioè era una piattaforma petrolifera, poi fu abbandonata. Successivamente, venne utilizzata per trasmettere delle frequenze radio, che era vietato trasmettere in UK, e quindi si faceva dal mare, perché eri fuori dal territorio nazionale, e quindi nessuno ti poteva dire niente, e poi si è deciso che questa piattaforma doveva diventare uno stato a tutti gli effetti. Ora, è possibile? Non è possibile? È leggermente possibile? Allora, diciamo che, di stati, tra virgolette, non riconosciuti, e anche piccoli o meno piccoli, nel mondo ce ne sono vari, ok? Non c'è solo Sealand, ma Sealand sicuramente è uno dei più famosi, chi è che segue questo settore sicuramente ne avrà sentito parlare. In ogni caso, io vi invito su Sealand.gov.org a leggere, eventualmente, tutto ciò che riguarda appunto Sealand, quindi la storia, bla bla bla, eccetera, eccetera, che io non vi dico, perché sennò il video dura troppo. Ma, su una cosa mi voglio concentrare. Che caratteristiche deve avere uno stato per essere tale? Cioè, io posso prendere un pezzettino di terreno e dire, ok, questo è il mio stato, e qui c'è la mia legge? È un po' difficile, in realtà, da fare. Perché lo stato deve avere tre requisiti. Prima di tutto deve avere dei confini e quindi un territorio, che Sealand ha. Poi deve avere un popolo, ok, che anche se è molto piccolo, in questo caso, Sealand ha. E poi deve avere un'amministrazione, insomma, no, un qualcuno, che Sealand ha. Poi c'è un quarto requisito. Il quarto requisito è più interessante, però, eh? Il quarto requisito è semplice. Uno stato, per essere considerato tale, deve avere avuto dei rapporti con altri stati. E questo si è verificato. Strano ma vero. Perché si è verificato? Perché a qualcuno non andava, diciamo, molto a genio che questa piattaforma petrolifera diventasse uno stato a sé e quindi ha deciso di parlare con il re, tra virgolette, di questo stato. E quindi creando la quarta condizione. Quindi un rapporto tra uno stato e un altro. Quindi si sono proprio fregati da solo con le loro mani. E quindi la storia è questa. È molto breve, ve l'ho detta in maniera molto breve, ovviamente, molto semplice, easy, però, ripeto, andate a leggerla. E questo stato, come tanti altri stati, vende cittadinanze, titoli nobiliari e bla bla bla. Ora, uno, facciamo, spostiamoci un attimo su un altro discorso. USA, Stati Uniti d'America, ok? La cittadinanza degli USA, per chi non lo sapesse, si può acquistare. E quindi non è una cosa che sta facendo Sealand, boh, e basta. Si può acquistare. Ovviamente costa un po' di più. Quanto costa acquistare una cittadinanza USA? Semplice. Occorre investire almeno 100.000 dollari per un'attività commerciale nel territorio degli USA. Allora, a quel punto viene rilasciata una carta dell'immigrazione, una green card, che poi si trasforma in una cittadinanza effettiva e quindi diventerà effettivamente cittadino americano. Ci vogliono almeno 100.000 dollari, ok? E tanto, però, tecnicamente, potreste acquistarla, ok? Potreste diventare un cittadino. Senza considerare che c'è il delivery visa program e quindi la lotteria che ogni anno si tiene nel periodo di settembre-ottobre a cui tutti noi italiani, quantomeno, possiamo partecipare e fare quindi giustamente richiesta. Basta avere ovviamente un passaporto in corso di validità e in questo caso cosa si vince? Si vince una cittadinanza per gli USA, quindi Stati Uniti d'America. Quindi, per dirvi che questo discorso di titoli nobiliari e bla bla bla, non è una cosa che si è inventata Sealand e boh, ma è una cosa che esiste più o meno in tutto il mondo, seppur con modalità parecchie o diverse. Torniamo un attimo a Sealand. Vi faccio passare il foglio, l'attestato che indica il titolo nobiliare che io ho acquistato e che si può acquistare eventualmente su sealand.gov.org. Insieme ad esso si può acquistare ovviamente anche un pezzo di terreno di Sealand e la carta d'identità, l'ID card, che ancora non è arrivata, comunque vabbè, l'ID card di Sealand. Ovviamente per l'ID card serve che ci sia un'autenticazione della persona attraverso un altro documento e attraverso un riconoscimento facciale. Quindi ci sono insomma delle pratiche. Io non posso mettere Mario Rossi e mi arriva una carta d'identità ID di Mario Rossi, nato ad otto giorno e bla bla bla. Comunque c'è una verifica dietro, giustamente, che si fa con Yodi, comunque. Per chi non conoscesse, comunque, serve appunto a questo, a fare verifiche di documenti per il rilascio di altri documenti. Quindi una cosa anche abbastanza, diciamo, fatta bene, seria. E quindi sì, potrei metterlo su YouTube, potrei metterlo su Instagram, potrei iscrivere su Instagram, Barone Gabriele Giacomino. Ma credo che il titolo non mi stia troppo bene, in realtà. Perché, cioè, guardami, dai, sul serio, ti sembro un nobile? Dai, ti sembro un nobile? Eppure lo sono. E quindi, niente, questa è la storiella semplice e anche divertente, ma anche altrettanto vera, che vi porto oggi, in questa giornata uggiosa, nonostante siamo in estate, è una giornata uggiosa. Mi vedete più carico? Mi vedete meglio? Grazie, ho finito l'università, ho finito quest'anno, ho dato tutti gli esami, mi sono un po' rilassato. E infatti si vede la differenza, sì, si vede. Detto ciò, vi invito non ad acquistare per forza un titolo nobiliare, tra l'altro possiamo scegliere non solo Barone, vuoi diventare un signore, un duca, bla bla bla, però, comunque, quantomeno, a leggere questa storia in maniera completa, che è una storia molto molto interessante, su sealandgob.org, e poi, se vi piace la causa, a me piace comunque la causa, e quindi ho deciso di fare questo acquisto, che comunque non costa tanto, ovviamente, i prezzi si trovano sul sito ma non costa tanto, meno di un centinaio d'euro comunque, tranne che poi ci sono quelli che costano anche qualcosina in più, dipende, insomma, però non parliamo di cifre alte, parliamo di cifre abbastanza basse, che hanno a disponibilità un po' tutti, e a chi interessa la causa può farlo, quindi acquistare un pezzo del territorio di sealand, o un titolo nobiliare, o la carta di identità, o la costituzione di sealand, o la bandiera di sealand. Ah, sealand ha anche una squadra di calcio, ok, questo me l'ero dimenticato di dire, però sì, ha anche una squadra di calcio, insomma, non gli manca niente, va, magari se avesse un po' più di territorio sarebbe l'ideale, ma vabbè, insomma, non si può avere tutto nella vita, bisogna accontentarsi. Detto ciò, vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi e condividete anche il video, che questo è venuto bene e divertente, lo dico prima di montarlo, perché ne sono sicuro, e ci vediamo la prossima settimana, domenica, al prossimo video, ciao!